Conosce bene la realtà dell'ospedale di Salerno Angelo Gerbasio che si è subito calato nella nuova veste di direttore sanitario. A giorni il summit con Vigiani per delineare il programma a breve e lungo termine dell'azienda universitaria ospedaliera con occhi puntati soprattutto su due grandi criticità, l'emergenza e il turnover. Su questi due fronti Gerbasio si dimostra ottimista. In arrivo risposte importanti, a breve. Avremo una piastra di emergenza all'avanguardia, quindi dal 12 dicembre saremo attivi per quanto riguarda il pronto soccorso. Nel mese tra novembre e dicembre di quest'anno abbiamo un'attivazione di diverse procedure di avviso di mobilità per dirigenti medici, per i personali del comparto sia ostetriche, tecnici di radiologia e tecnici di laboratorio. Quindi in uno spazio di due mesi arriveranno forze nuove provenienti da altre aziende per cercare di recuperare qualche dipendente per ridurre le carenze che esistono e ci sono e persistono. Non mancano messaggi d'augure e congratulazioni, sono già arrivati sulla scrivania di Gerbasio che può contare anche su un ottimo rapporto con le organizzazioni sindacali. Il giudizio è positivo, è positivo perché il nuovo direttore sanitario è già presente in azienda da due anni, quindi conosce tutte le problematiche e tutte le criticità di questa azienda, per cui siamo sicuri, avendolo visto all'opera, che potrà raggiungere al massimo i risultati che il direttore generale gli darà. Quindi il giudizio è ampiamente positivo. La prima richiesta sarà quella di integrare i turni, il nuovo personale, c'è bisogno come il pane in questa struttura di nuove forze. La prima richiesta è quella di portare il personale nuovo per svecchiare questa azienda, perché i numeri sono estremamente ridotti. Siamo all'omicino come personale medico e non medico. La regione sa bene di questi problemi, quindi bisognerà intervenire. Avere una persona che sa dove mettere le mani per noi oggi è fondamentale.